Un test sulla terra battuta perché c'è questa novità di non poco conto, affronterete una gara sicuramente particolare a Ribera. Abbiamo scelto di fare la Michiole qua perché ci dobbiamo allenare su questo campo, domenica sarà una partita dura. Un campo che si sa com'è, non si gioca a calcio, però dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco anche su un campo intero. Quattro vittorie su quattro, era difficile immaginare un inizio così, consideratele tante novità in organico, in pratica soltanto due conferme rispetto all'anno scorso e un gruppo totalmente nuovo. Un gruppo nuovo ma un gruppo subito affiatato che ha fatto subito squadra, ci stiamo comportando da vera squadra con tante difficoltà. Soffriamo anche nei minuti finali, ma cerchiamo sempre di vincere la partita in modo ordinato e corretto. Questo è grazie al lavoro che facciamo, al nostro gruppo, che siamo tante persone che lavorano seriamente e correttamente. Vi aiuta tantissimo il pubblico, 250 sostenitori al seguito, anche in un'amichevole infrasettimanale non capita dappertutto. Il pubblico è fondamentale per noi, perché quest'anno dobbiamo cercare di portare più gente allo stadio, perché il Messina si merita altri campionati e come voi sapete noi facciamo di tutto per che questo accade. Ferrini ha sottolineato che proprio lo spogliatoio, quello che lo ha impressionato di più, si è creato in pochi giorni. Anche Costa Ferreira, appena arrivato, ha detto che si è trovato al meglio, che nello spogliatoio scherzate tantissimo, l'avete fatto ambientare in pochi giorni. Ti ripeto, questo qua è stata forse la nostra forza. Pur essendo ottimi giocatori, con tante qualità, siamo pure degli uomini. Soprattutto stiamo lavorando su questo, perché si vince soprattutto così. C'è attesa ovviamente per il ritorno di Gnoffo e per l'esordio di Leon, è chiaro che con due innesti di questa qualità potete davvero fare la differenza. Certo, due ottimi giocatori che hanno un curriculum che parla da solo. Noi aspettiamo veramente Giovanni, perché ci può dare tanto esperienza, è un ottimo giocatore, ma soprattutto un grande uomo. Pure Leon, tutti quanti sapete le qualità di Leon. C'è una rivale credibile in questo torneo? L'Agropoli ha fatto un'ottima impressione domenica. Sì, ci sono delle buone squadre secondo me, Cosenza, Città di Messina, il Sessacropoli, il Savoia. Però secondo me dipende tanto da noi, noi abbiamo il destino in mano. Se noi facciamo le cose fatte per bene, con molta cattiveria e molta fame, noi possiamo vincere il campionato. Perché le qualità, abbiamo tutto per poterlo fare. Grazie a tutti.